Un pareggio beffa per la Miternina che probabilmente meritava qualcosa in più del punto ottenuto. I giallorossi di mister Angelone, oggi squalificato e sostituito in panchina da Nappo, pagano un primo tempo disputato sotto tono e l'episodio che ha portato in vantaggio i marchigiani al sesto della ripresa. Il forte vento e la pioggia ha poi creato notevoli difficoltà a entrambi le squadre. Per la cronaca si fa notare la Miternina al settimo, Terriaca sul lato sinistro mette mezzo per Giordano che calcia alto. Dopo due minuti la risposta della Folgore, grazie al diagonale di Padovani che viene respinto di piede da Di Vincenzo. Queste sono le due azioni di un primo tempo in cui è prevalza la paura che ha condizionato entrambe le compagini che sono alla ricerca di punti salvezza. Quasi a inizio riprese i marchigiani si portano in vantaggio inaspettatamente. Al sesto un rilancio in avanti a liberare il centrocampo. Sbarbati trova un buco nella linea difensiva locale, avanzando fino al limite dell'area e con un rasoterra in diagonale infila la rete. Trovato il vantaggio, la Folgore tireremo in barca e la Miternina si spinge in avanti alla ricerca almeno del pareggio. Al trentesimo Torbidone ci riprova in diagonale, respinge di piede Marani. Dieci minuti e giallorossi conquistano il rigore. Terriaca entra in area e viene atterrato da mandorlini, rigore ed espulsione. Dal deschetto Torbidone spiazza il portiere ospite. Continua l'assalto della Miternina ma la gara si conclude in parità. In sala stampa a commentare il pareggio arriva solo l'allenatore dei marchigiani Zaini. Noi nell'ultima parte della partita abbiamo concesso un po' troppo e quindi è chiaro che tu hai un ritorno dopo aver fatto il gol, è una cosa naturale di avere un ritorno di una squadra che gioca in casa, soprattutto una diretta concorrente per la salvezza. Quindi è chiaro che siamo un ritorno all'avversario, lì dobbiamo essere un po' più attenti, però comunque devo fare i complimenti ai ragazzi perché ho visto tanti impegni in mezzo al campo, tanta dedizione, tanta voglia e questo mi fa ben sperare per il futuro del proseguo del campionato. Il calcio non perdona, gol mangiato, gol subito perché sbarbati di testa non ce l'ha fatta chiude verso la porta e poi abbiamo preso il rigore e quindi è giusto così. Per noi comunque sia, è un buon punto contro una diretta concorrente.